Ehi la, scusa? Sì, dico a te. Se sei in questa zona del negozio probabilmente stai cercando un prodotto per il legno. Lo sapevi che il miglior modo di prendersi cura del legno è l'olio? Se vuoi rinnovare un vecchio mobile o cambiare colore al tuo parquet, questo è il prodotto giusto. Gli oli 100% naturali Timono sono la scelta migliore per il legno perché oltre a colorarlo lo nutrono e lo proteggono esaltandone la sua bellezza naturale. Vedi? Questo era un vecchio cassettone. Qui è stato carteggiato e qui ho iniziato a dargli nuova vita oliandolo. Adoro il legno naturale. Rinnova velocemente una parete, un tagliere o addirittura un giocattolo per tuo figlio. Cambia colore ad un vecchio pavimento o ad una cassa panca perché l'olio kimono è in odore 100% naturale e di qualità garantita dalla produzione svizzera. E con una resa altissima. Ne bastano poche gocce per ricoprire grandi superfici. Con gli oli naturali per legno kimono potrai colorare, nutrire, proteggere, pulire, rinfrescare e allungare la vita di qualsiasi superficie in legno per essere ogni giorno liberi di fare cose belle.